Dubkova sul pallone, il tiro di Dubkova, il gol porta in vantaggio Dubkova e Sassuolo dopo 15 minuti di gioco, bravissima, bella azione del Sassuolo che si è disteso sulla fascia destra, grande azione, bello anche il gol. Bellissimo ma bella la giocata di Cantore, Piovani prima della partita ci ha parlato molto di lei ha detto è la prima che arriva al campo, è l'ultima che se ne va, se mi ascolta scherzava può fare delle grandissime cose, ha fatto... La vorrei rivedere nel senso che probabilmente è stata una finta, è passata dietro la difesa del Milano e ha messo il pallone perfetto perché c'era solo Dubkova quindi non ha messo una palla a caso in mezzo all'aria ha visto la sua compagna e poi Dubkova bravissima a battere Giuliani che poteva...